Elga Enardu e Diego Daddi dietro la rottua, non la mancanza di figli, un tradimento? E purtroppo dobbiamo tornare a parlarvi in questo articolo di Diego Daddi e Elga Enardu. Insomma vi parliamo della rottura che a questo punto la possiamo considerare definitiva del rapporto fra Elga Enardu e Diego Daddi. Una rottura conclamata, ma che già nei giorni scorsi si era capito che stava volgendo verso il nero diciamo. Infatti in primis aveva parlato Diego Daddi dicendo che stanno attraversando un momento difficile. Dopo due giorni ha parlato direttamente a Elga Enardu confermando che fra di loro è tutto finito rispondendo al consueto form che potete trovare su Instagram dove ha dichiarato anche diverse cose interessanti che ci aiutano a comprendere esattamente i motivi della loro rottura, ma sentiamo con precisione che cosa si sono detti. Elga Enardu conferma la rottura con Diego Daddi. Sulla possibilità che la rottura fosse basata sulla mancanza di figli risponde. No e ringrazio Dio di non averne. Ti risulta che tutte le coppie sposate con figli non si lasciano. Il nostro rapporto non si è mai rotto. Ci siamo amati moltissimo. Ci amiamo moltissimo. Ci ameremo per sempre. Nel mio caso non mai finita. Foto di Elga Enardu con Diego Daddi ma senza sorpresa. E a domanda su chi abbia lasciato chi Elga Enardu dice. Manca solo il faro puntato in faccia. E alla domanda che cosa non dovrebbe mai fare un uomo la risposta è netta. Ossia tradirla. Affermazione che aveva fatto sinceramente pensare. Infatti in rete abbiamo visto alcuni fans che cominciavano dire che c'è stato un tradimento. Invece la stessa Elga Enardu molto correttamente dobbiamo dire era intervenuta sull'argomento negando ogni possibile tradimenti da parte di Diego e ovviamente da parte sua. Ha solamente detto che si è trattato di una cosa molto personale e per questo motivo è difficile da raccontare. Per il momento è tutto. Ma insomma ci sembra evidente che la cosa più evidente è che fra di loro sia veramente tutto finito e che per il momento non abbiano alcuna intenzione di fare passi indietro.